Benvenuti a tutti. Per cambiare un colore a qualsiasi oggetto di un'immagine in Photoshop dobbiamo prima sapere alcune informazioni sul colore e precisamente come funzionano i componenti per ogni singolo colore. Abbiamo tre componenti, la tonalità, la saturazione e la luminosità, tradotto U-saturation brightness e scusate il mio inglese. I valori di questi componenti vengono visualizzati. Vedete qua abbiamo l'H per quanto riguarda la tonalità e poi la S per quanto riguarda la saturazione e B per quanto riguarda la luminosità. A prendersi il lettore colori qui vediamo molto bene il nostro tubo dei colori. Guardate, se ci spostiamo notate come cambia qui il valore nella tonalità perché andiamo a trovare appunto i vari colori. Questo valore della tonalità viene visualizzato in grati da 0 a 360. Man mano che ci spostiamo partendo da 0 andiamo fino su a 359 e poi abbiamo ancora ripartiamo dal 360 cioè lo 0 che è il nero. Inoltre guardate qui i valori possiamo inserire e naturalmente anche manualmente ad esempio se lo scrivo 50 vedete mi sposto sul colore sulla tonalità del colore che corrisponde a 50 gradi. E guardate se ci spostiamo con la freccia in su in questo caso vedete mi sposto di un grado alla volta. Se premo il tasto maiuscolo mi sposto di 10 gradi alla volta vedete 86, 96 fino arrivare al massimo 359 e poi 360 dove abbiamo ancora il nostro nero. Ora mi sposto qui ad esempio sul colore verde poi vedete clicco col mio mouse e seleziono il colore in questo caso un'altra tonalità 136 gradi. Se mi sposto completamente a destra qui come saturazione abbiamo 100 guardate mi posiziono vedete abbiamo 100 come saturazione. Man mano che mi sposto e l'abbiamo qui all'estrema destra. Man mano che mi sposto verso sinistra abbasso la saturazione fino arrivare a 0. E qui la saturazione come anche la luminosità vedete è espressa in percentuale. E anche qui possiamo usare se ci posizioniamo qui sul selettore possiamo usare i nostri tasti freccia. Vedete col tasto freccia in su mi sposto verso destra quindi aumento la saturazione e col tasto freccia in giù abbasso e diminuisco la saturazione. E quindi con la saturazione abbiamo la rappresentazione visiva appunto di quale sia il punto di saturazione. Nella luminosità invece selezioniamo luminosità vedete possiamo spostarci avere più o meno luminosità e qui lo capite molto bene anche voi guardate abbiamo più luminosità ma sta abbassandoci e andiamo verso il nero con meno luminosità. Anche qui partiamo in percentuale da 100 fino arrivare a 0 assoluto. Adesso capito questo vediamo semplici esempi di come cambiare colore di un oggetto in una immagine. E cominciamo partendo da uno strumento che abbiamo a disposizione e che è lo strumento sostituzione colore. Guardate qui abbiamo i nostri pennelli clicchiamo abbiamo strumento sostituzione colore. E cosa fa Photoshop? Noi andiamo a dipingere all'interno del nostro colore sostituisce il colore originale con quello selta. Adesso ad esempio segniamo il nostro colore di primo piano e prendiamo un rosso e poi ingrandisco il mio pennello e adesso vedete dipingo all'interno qui del vestito e vedete come Photoshop trova i bordi del colore originale e li sostituisce con il colore selto in questo caso il rosso. Però vedete sembra che funziona molto bene ma non è proprio così perché guardate innanzitutto se vi faccio vedere andiamo a sostituire i pixel originali quindi lavoriamo in modo distruttivo. Inoltre va molto bene quando abbiamo dei colori puri dei colori senza trasparente senza la trasparenza in modo che copre completamente. qui vedete abbiamo un po' di problemini. Quindi questo va bene in certi casi ma in questo direi proprio di no. Vediamo quindi un altro procedimento. Elimino questo livello di regolazione e poi guardate andiamo a selezionare con selezione rapida il vestito qui nell'immagine principale selezione molto semplice. Vedete? Ecco qua e poi andiamo a creare un livello di tonalità e saturazione. Innanzitutto con il livello di regolazione rapida abbiamo creato una maschera quindi non interveniamo in modo distruttivo come abbiamo fatto in precedenza ma possiamo sempre modificare la maschera per appunto modificare e quindi avere sempre la nostra immagine originale. In tonalità e saturazione qui nelle proprietà al vicino così vediamo bene qui abbiamo la tonalità saturazione e luminosità e sono i tre componenti dei colori che abbiamo visto dall'inizio e spostando il cursore della nostra età cambiamo colore. Guardate andiamo a spostare vedete andiamo a cambiare totalmente il nostro colore. guardate dal verde, rosso, blu e fucsia. Vedete? Ecco qua. E poi mano a mano andiamo a cambiare adesso per esempio prendiamo questo rosso qui con la saturazione andiamo a modificare la saturazione più o meno saturazione come anche la luminosità l'abbiamo visto sempre dall'inizio e quindi già questo è un ottimo procedimento. Sposto così adesso vediamo ancora bene e poi guardate abbiamo un altro procedimento ancora allora tolgo la visualizzazione qui di tonalità e saturazione e poi creo un nuovo livello e questa volta scegliamo tinta unita. Scegliamo il colore sempre rosso, proviamo, facciamo ok, poi guardate la selezione già presente quindi trassino e poi col tasto control e alte e praticamente incopio e incollo la stessa maschera in quella sottostante e dico di sì. Ora dobbiamo cambiare il metodo di diffusione e ne possiamo utilizzare due guardate tonalità e colore. E cosa cambia tra tonalità e colore? Con metodo di diffusione tonalità cambiamo solo la tonalità cioè il colore ma non la luminanza e la saturazione mentre con colore guardate andiamo a cambiare sia la tonalità che la saturazione e poi entrando nel settore colore della titolita possiamo intervenire e modificare la luminosità anche il colore guardate se io rientro qui possiamo cambiare la luminosità e naturalmente anche il colore. Ora invece andremo a vedere come applicare il colore nero e bianco sostituendo il colore originale. Quindi guardate andiamo sempre qui inseriamo un altro livello di rivoluzione sempre tonalità e saturazione e poi abbassiamo la saturazione e la portiamo a zero. Adesso qui tolgo via la visualizzazione del livello sopra così vediamo molto bene quindi vedete abbiamo desaturato abbiamo colore bianco abbiamo colore questo qui grigino. adesso andiamo a creare un gruppo e possiamo premere ctrl e g. Adesso abbiamo creato il gruppo 1 vedete all'interno tonalità e saturazione si è posizionato all'interno altrimenti guardate torna indietro se andiamo a creare un gruppo direttamente da qui vedete non l'abbiamo all'interno quindi dobbiamo trassinarlo e inserirlo all'interno del nostro gruppo e poi andiamo a prendere sempre la nostra maschera con la nostra selezione sempre ctrl alta però andiamo a inserire e incollarla qui nel gruppo. A questo punto noi abbiamo bisogno di questo perché così abbiamo la stessa maschera su più livelli di regolazione infatti ne abbiamo bisogno di due uno per la tonalità e uno per la saturazione. Possiamo eliminare la maschera di tonalità e saturazione perché a questo punto non ci serve più quindi la andiamo a eliminare e diciamo elimina. Ora dopo che abbiamo regolato la saturazione portata a zero andiamo a creare un nuovo livello di regolazione e inseriamo valori tonali. Poi anche qui la maschera non serve più quindi la andiamo a eliminare e poi abbassiamo vedete il triangolino qua del nero. Guardate riusciamo a ottenere il nero e cambiando i mezzi toni possiamo regolare il contrasto più o meno contrasto. Quindi possiamo andare anche un po' più nero e regolare il contrasto. La stessa cosa naturalmente la otteniamo con il bianco. Se spostiamo il bianco ecco qua che otteniamo il bianco del nostro vestito e anche qui con i mezzi toni modifichiamo il contrasto. Come notate si è formato questo bordino ma sappiamo benissimo che se andiamo alla nostra maschera possiamo eliminarlo tranquillamente. Diciamo così che non è detto che uno di questi metodi vada bene con tutte le immagini. Diciamo che con il livello di regolazione colore e riempimento abbiamo più possibilità di ottenere un buon risultato. Ma comunque fate delle prove e vedete poi quale sia più conveniente per la vostra immagine per quello che volete ottenere. Vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.